Amedeo Giudici siete recentemente rientrati dalla Papua Nuova Guinea, cosa avete realizzato? Siamo partiti 9 uomini, 9 volontari, siamo andati in Papua Nuova Guinea nell'Arcidiocesi di Cocopo, Rabaul, dove opera l'Arcivescovo Panfilo Francesco, per far partire un progetto ideato dallo stesso Vescovo per realizzare delle piccole case per la gente a basso reddito. Abbiamo mandato in avascoperta due grossi container con tutto il materiale che doveva servirci per realizzarle e appena è arrivato siamo partiti anche noi, con l'aiuto di una squadra di operai della zona, una quindicina di giovani, abbiamo incominciato a realizzare le cinque, quantomeno le cinque casette che erano previste nel materiale che abbiamo spedito. Ne abbiamo realizzate, completate, con tutti gli impianti sanitari, elettrico e idraulico, tre. E la quarta siamo stati a vedere i ragazzi che hanno imparato con noi, l'abbiamo vista crescere e realizzare da loro perché il progetto poi deve andare avanti con loro per costruire le prime dieci casette di questo grande progetto ideato dalla diocesi che in teoria potrebbe arrivare fino a contenere 200 casette per la gente che dall'interno dell'isola, dei villaggi interni, si avvicina alle città, trova di che lavorare e quindi un minimo di sostentamento, però è pagata veramente poco che non può realizzarsi una casetta con i propri mezzi. Quindi l'Arcidiocesi ha messo a disposizione una grossa piantagione che comunque non è più sfruttabile dalla diocesi, quindi offre il terreno e inizierà a offrire anche queste prime dieci casette a metà prezzo alle dieci famiglie a cui verranno assegnate e poi l'altro a metà prezzo dovranno impegnarsi a pagarlo perché servirà poi per finanziare il progetto nella sua continuazione. Quindi per costruire anche le casette successive. Per sostenere questo progetto ci sono diverse iniziative, una ci interessa particolarmente perché è sviluppata in questo periodo dell'anno, ovvero la sottoscrizione a premi. Esatto, ogni anno nell'approssimarsi delle feste il nostro Presidente Baldino fa stampare 30.000 biglietti di un euro ciascuno e che servono per una sottoscrizione a premi che viene estratta in una serata a fine febbraio, quest'anno sarà il 3 marzo, in cui si fa una serata in cui il gruppo Africa Val di Scave presenta quello che ha realizzato l'anno prima e rende noto i progetti per l'anno in corso ed è poi astrae i vari premi che riguardano questa lotteria. È chiaro che chi va a realizzare il progetto dietro sa che ha una serie di persone che anche con un solo euro ha partecipato comunque a dare la possibilità per realizzare quello che si va a fare.